Buonasera, ben trovati. Nuova edizione del TG Abruzzo. E allarme e povertà nel Pescarese. I dati presentati dalla Caritas sono preoccupanti. In aumento i pasti serviti nelle mense, ma anche le persone in cerca di un'occupazione. Sentiamo Matteo Porfiri. Aumenta la povertà nel Pescarese. La preoccupante fotografia è stata scattata dalla Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara Penne, che nel proprio bilancio sociale 2023 parla di una notevole crescita di somministrazione di pasti, con numeri in aumento, anche per quanto concerne gli ospiti dei dormitori e le famiglie che accedono agli empori della solidarietà. A crescere è soprattutto la cosiddetta povertà di ritorno, e cioè di coloro che sembravano aver avviato un nuovo percorso di vita e che invece si sono visti costretti a fare un passo indietro e chiedere di nuovo aiuto. Sono aumentati notevolmente i pasti serviti dalle mense di Pescara e Montesilvano, passati dai 58.000 del 2022 agli 81.000 del 2023, così come sono aumentate le persone accolte nel dormitorio della cittadina dell'accoglienza, passate da 180 a 243. Non fa differenza il dato sulle famiglie seguite dagli empori della solidarietà nell'area metropolitana. Erano 370 nel 2022 a fronte delle 456 del 2023. Continua anche l'accoglienza dei profughi ucraini, 254 le persone accolte nello scorso anno. Ancora, numeri preoccupanti, sono state 1.778 le persone che si sono rivolte alla Caritas per un totale di 6.357 bisogni rilevati. L'86,3% riguarda problemi di occupazione, il 77% problematiche familiari, il 64% problematiche abitative, il 29,6% problemi di salute, il 23,5% problemi di istruzione. Una risposta dalla Caritas è arrivata al 91,1% delle richieste. Per quanto riguarda le famiglie in stato di svantaggio socio-economico, ben 456 sono state accolte dagli empori della solidarietà di Pescara e Montesilvano con 3.692 spese effettuate con la tessera a punti. Dati significativi dunque che testimoniano come la povertà sia sempre più una piaga sociale in tutta Italia e nemmeno il pescarese purtroppo fa eccezione. Un altro allarme riguarda la violenza di genere sono raddoppiati gli interventi nell'Aquilano, il servizio. Gli interventi delle forze dell'ordine per contrastare la violenza di genere sono in aumento nella provincia di L'Aquila anche grazie all'entrata in vigore del Codice Rosso. I dati, divulgati dal comandante provinciale dei Carabinieri dell'Aquila, Nicola Mirante, mostrano un significativo incremento rispetto al periodo gennaio-maggio 2023. Il numero di richieste di pronto intervento nelle cinque stazioni provinciali dei Carabinieri è raddoppiato, passando da 29 a 59. Un aumento che è quasi proporzionale al numero delle segnalazioni raccolte e comunicate alle competenti procure della Repubblica presenti sul territorio L'Aquila, Avezzano e Sulmona che sono passate da 42 a 49 denunce con un incremento del 16,6% per le quali si è proceduto a piede libero. Anche gli arresti in flagranza sono aumentati passando da 12 a 22. In crescita anche le ordinanze di custodia cautelare che sono salite da 18 a 24 con un incremento del 33% tra permanenza domiciliare e carcere con una leggera prevalenza di quest'ultima. Durante una conferenza stampa, Mirante ha sottolineato l'importanza della rapidità con cui le forze dell'ordine riescono a rispondere alle richieste di emergenze e di aiuto delle fasce deboli grazie al codice rosso. Questo strumento, ha detto ancora Mirante, è stato un momento di grande svolta permettendo interventi tempestivi e l'applicazione delle misure necessarie affinché le vittime non subiscano più soprusi da parte degli aggressori. I dati evidenziano l'efficacia delle misure adottate e l'impegno costante delle forze dell'ordine nel garantire sicurezza e protezione delle vittime di violenza di genere. La cronaca raid di furti ad Alba Adriatica siamo nella provincia di Teramo ladri in azione nelle case di Pantoli e Giacomozzi. Sentiamo. Una nuova ondata di furti ha colpito la zona pep della città nelle ultime ore tra le vittime il consigliere comunale Renato Pantoli e il professionista Davide Giacomozzi. Pantoli, richiamato da alcuni rumori provenienti dalla sala si è svegliato in piena notte trovandosi faccia a faccia con uno dei malviventi. Il furto si è verificato nella notte tra venerdì e sabato. I ladri hanno praticato un foro nella finestra e poi si sono introdotti all'interno. Uno dei malviventi ha iniziato a rovistare tra i cassetti ed è stato scoperto da Pantoli e sua moglie. Prima di darsi alla fuga è riuscito a impadronirsi di una borsa contenente circa 500 euro. Pantoli ha descritto l'evento come uno degli incubi peggiori che si possano vivere trovandosi in casa un ladro che rovista nei tuoi cassetti cercando i tuoi oggetti e violando l'intimità della tua casa. Ha sottolineato anche la necessità di una maggiore attenzione e presenza delle istituzioni per la sicurezza dei cittadini. Nella stessa zona i ladri hanno cercato con la stessa tecnica di introdursi in un villino adiacente ma senza riuscirci. Appena 24 ore dopo invece è andato a segno il secondo furto. È accaduto sempre nella zona ovest di Alba Adriatica. Sabato attorno alle 23 una banda ha preso di mira l'abitazione di Giacomozzi professionista che vive in via Scolana ed era fuori con la famiglia. I ladri in meno di 10 minuti con una mola hanno aperto la cassaforte e rubato con tanti e preziosi per un bottino di diverse migliaia di euro. Un colpo messo a segno da professionisti che hanno agito controllando presumibilmente tutti gli spostamenti della famiglia. Giacomozzi ha espresso indignazione per il fatto che i ladri sembrano non aver paura di nulla operando nella massima impunità e senza alcun timore. Nonostante il pronto intervento delle forze dell'ordine la paura di addormentarsi rimane sia per lui che per la sua famiglia. Ha sottolineato infine Giacomozzi come questo evento abbia violato ciò che ciascuno di noi crede inviolabile la propria casa e ha evidenziato la necessità di attivarsi per prevenire ulteriori furti. È ufficiale la cassa integrazione allo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. L'accordo è stato siglato nel pomeriggio di lunedì da tutte le organizzazioni sindacali che hanno incontrato i vertici dell'azienda. La misura scatterà dal 10 al 23 giugno anche se secondo i vertici dello stabilimento riguarderà solo 70 dei 462 lavoratori della fabbrica Peligna. I sindacati dunque durante il periodo di cassa integrazione hanno ottenuto la sospensione dei 18 turni. La cassa integrazione è dovuta al rallentamento dell'ex Sevel di Atessa a cui la Marelli è collegata con l'80% della produzione. La sanità in Abruzzo ha un tavolo di monitoraggio che è al disegno di legge per la copertura del disavanzo. L'assessore Verri dice nessuna tassa e nessun commissariamento. Queste le rassicurazioni dalla regione. Ma sentiamo Matteo Porfiri. Non ci saranno aumenti di tasse, non ci sarà alcun commissariamento o tagli ai servizi della sanità in Abruzzo. Il tavolo di monitoraggio sulla spesa sanitaria istituito presso i Ministeri della Sanità e di Economia e delle Finanze nella riunione di Roma ha dato parere favorevole al disegno di legge presentato dalla Giunta regionale dell'Abruzzo e approvato nei giorni scorsi dal Consiglio regionale per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023. A darne notizia è l'assessore regionale con delega alla salute Nicoletta Verri attraverso l'approvazione da parte del tavolo di monitoraggio delle coperture finanziarie individuate viene garantito l'equilibrio economico finanziario dei conti. Il prossimo passaggio è l'individuazione dei piani di razionalizzazione delle spese delle quattro ASL così come previsto dall'articolo della legge approvata al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità dei servizi sanitari offerti. Gli strilli delle forze di opposizione sono parsi quantomeno inopportuni a detta della Verri se si pensa che in passato le ASL abruzzesi hanno avuto disavanzi basta andare a vedere i vecchi bilanci ha spiegato l'assessore. Decine di milioni all'Aquila Chieti Teramo che la Giunta ha sempre provveduto a ripianare. I piani di razionalizzazione dovranno includere un'analisi dettagliata delle risorse umane tecniche e finanziarie oltre a prevedere proposte di miglioramento nell'allocazione delle risorse includendo strategie di ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie sanitarie esistenti. Infine i piani di razionalizzazione dovranno anche individuare misure per incrementare l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, ospedalieri, territoriali e sociosanitari. In attesa degli sviluppi per l'assetto societario del Pescara il direttore sportivo Daniele Delicarri ha contattato per la prossima stagione il vice di Zeeman Vincenzo Cangelosi come possibile allenatore per il prossimo campionato ma al momento si tratta solo di una possibilità Sergio Cinquino C'è anche Vincenzo Cangelosi tra le possibili piste per la guida del Pescara nella stagione 2024-2025 l'ex secondo storico di Zenex Zeeman è stato contattato dal direttore sportivo del Pescara Daniele Delicarri e potrebbe essere proprio Cangelosi l'uomo nuovo in grado di mantenere la continuità con il passato nel sorco di una traccia zeemaniana interrotta quest'anno purtroppo solo dalla malattia dell'allenatore boemo costretto ad arrendersi a metà campionato a causa di un intervento chirurgico e che ora è comunque ristabilito Cangelosi dopo un sodalizio collaudatissimo con Zema ha durato una vita professionale negli ultimi due anni ha guidato la casertana eliminata quest'anno agli ottavi di finale play-off dalla Juventus Under-23 formazione che ha eliminato anche il Pescara nel turno precedente la società sta intanto attendendo di definire l'asset societario con possibili ingressi e anche eventualmente valutando offerte per la cessione della stessa prima di partire operativamente con il mercato anche se Delicarri è già al lavoro da giorni sia sul fronte acquisti che su quello cessioni per il quale al momento è più facile lavorare con Merola Gioiello Biancazzurro in partenza verso una squadra di B mentre i contatti con i nuovi giocatori Biancazzurri restano informali e dipendono tutti dalla scelta dell'allenatore tutto confermato invece per l'ingresso in società dell'ex patron del Teramo Luciano Campitelli che sarà nel Pescara oltre che come sponsor con un ruolo operativo che potrebbe essere quello di vicepresidente o direttore generale mentre non entrerà nelle vesti di socio infine la contestazione di tifosi organizzati al tandem Sebastiani Dellicarri con gli ultra che invitano in un comunicato ad un'assemblea rivolta a cittadini e tifosi per giovedì 30 maggio la serie di domani in casa Teramo conferenza stampa per il riconfermato staff tecnico intanto prime indiscrezioni di mercato per l'attacco piace il bomber dell'ischia Baldassi sentiamo Giussi Cingoli ieri pomeriggio con un comunicato stampa il Teramo Calcio ha reso noto che mercoledì 29 maggio alle ore 16 presso la sede sociale del club in via Melchiorre Delfico è stata indetta una conferenza stampa sarà l'occasione per ascoltare le dichiarazioni del riconfermato staff dirigenziale tecnico e conoscere le linee programmatiche societarie in vista del prossimo campionato nazionale di serie D interverranno il presidente Filippo Di Antonio il direttore generale Antonio Paoluzzi il direttore sportivo Paolo Dercole e il responsabile tecnico Marco Pomante in riferimento ai nuovi acquisti allo staff tecnico piace molto Valerio Baldassi esterno d'attacco romano classe 99 autore di 10 reti e 5 assist l'atleta ha giocato con la maglia dell'ischia in serie D nel girone G dopo che lo scorso anno aveva segnato 12 gol con la maglia del Pomezia proseguono poi gli incontri con altri giocatori della Rosa a breve la società bianco-rossa dovrebbe confermare il gruppo Terramano formato dal capitano Alfonso Pepe che sarà il primo ad essere riconfermato Emanuele Ferraioli Stefano Degidio Davide Cipolletti e Roberto Furlan poi si passerà molto probabilmente alle conferme di Ture e Vanzan si punterà un 2006 tra i pali e gli altri due fuori quota obbligatori 2004-2005 potrebbero essere impiegati in altre zone del campo la società nel frattempo è sempre in attesa di notizie ufficiali sullo stadio Gaetano Bonolis la auspicata fumata bianca sullo stadio cambierebbe gli orizzonti del Teramo sia sul piano delle spese annuali e del budget da stanziare e sia sul piano dell'attività da svolgere sia per la prima squadra che il settore giovanile dunque non resta che attendere e questo era il nostro ultimo servizio il TG Abruzzo si ferma qui grazie per essere stati con noi un buon proseguimento di serata con i programmi della rete arrivederci grazie